L'intervento del Fosso Cupina è un intervento dell'ex ordinanza 82 di protezione civile che consiste nella mitigazione del rischio idraulico di parte dell'abitato del comune di Monte San Zavino. Dal 22 di gennaio si prevede la chiusura della strada provinciale 25 al chilometro 16 più 10. Dal 22 gennaio al 15 marzo a Monte San Zavino sulla strada provinciale 25 della Misericordia il traffico veicolare pedonale sarà off-limits. Sta infatti procedendo il cantiere per la mitigazione del rischio idraulico in un'area che spesso ha dovuto fare conti con danni e allagamenti. Grazie a questo intervento si riuscirà a mitigare il rischio idraulico dell'area che comunque è un'area industriale quindi soggetta ad allagamenti ricorrenti per cui si riuscirà a diminuire sia la pericolosità che il rischio connesso. L'intervento è stato finanziato con mezzo milione di euro messo a disposizione dal PNRR ed integrato con risorse comunali. A valle dell'attraversamento sarà previsto la riprofilatura e l'adeguamento della sezione idraulica del corso d'acqua e la realizzazione di un nuovo tratto di fiume diversivo che si metterà sul collettore principale. Il comune di Monte San Zavino indica gli itinerari alternativi. Il traffico purtroppo sarà un grosso problema ma cerchiamo di risolverlo con due arterie secondarie. Una venendo dall'autostrada e dalla superstrada sarà l'ingresso verso la zona autostrale e dopo rientrare sulla strada SS73 verso il semafore verso Monte San Zavino. L'altro che noi consigliamo per i mezzi pesanti è rimanere in superstrada o chi viene dall'autostrada e entrare in superstrada verso Siena uscire alla fine della superstrada e entrare in via Procacci verso Monte San Zavino.